Secondo indiscrezioni Giovanna Abate non vuole ancora ammettere ma la sua scelta sarà Samy Hassan a prescindere dal fatto che lui possa dirle di sì oppure rifiutare di uscire con lei. L'abate continua a insistere di avere una grandissima confusione in testa in parte causata anche dall'alchimista. Nella prossima puntata infatti lo vedremo arrivare in studio senza maschera. Con Samy Giovanna non fa altro che litigare e discutere eppure solo con lui si è davvero rivelata. Solo per lui ha davvero rivelato di avere dei sentimenti. Poi però fa un passo indietro quando le viene posta la domanda bruciapelo. Samy è la tua scelta evidente a tutti perché non lo scegli. L'abate si rigidisce ed esclama se fosse davvero la mia scelta l'avrei già scelto ma non è così. Il suo sguardo, la sua espressione, il suo tono non sono convincenti e molto presa da Hassan. In questo momento può solo provare a convincere se stessa perché agli occhi di chi sta seguendo il suo percorso è tutto molto chiaro. Voi cosa ne pensate? Scrivetemelo giù nei commenti. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un like di supporto.